Avrebbe potuto avere conseguenze gravi quanto è accaduto ieri sera a Francavilla Fontana in pieno centro cittadino, poco prima dell'orario previsto dalle prescrizioni anti-Covid. Un centauro ha perso il controllo dello scooter ed ha travolto un passante che camminava sul marciapiede. È accaduto tra Piazza Umberto e Via Regineirena intorno alle 21.40. Feriti sia il giovane centauro che l'anziano, un 68enne del posto. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118, giunti immediatamente e allertati dalle persone che stazionavano in centro. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri. All'arrivo dei militari lo scooter era però scomparso. Accertamenti sono in corso per determinare la dinamica di quanto è accaduto e verificare eventuali responsabilità.